Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio recensare il blog, scrivete il blog con le perle Iniziamo a fare l'SMR Vediamo se si allunga, ragazzi si allunga tantissimo Però poi a un certo punto si spetta Questo è quello là all'anguria Sono in questa postazione perché sono a casa di mia zia Fa un sacco di rumorino Magari vi abbasso la telecamera Come vedete è fantastico Ha misura proprio di anguria Appunto è l'anguria Poi facciamo il mucchietto E di caso tu che non lo sa Nel caso vedrai questo video Eccolo qua Keep the fluffy slime Perle In tutti i colori Compralo E' geniale E fanno tutti i bambini I bambini I bambini fanno Ha queste perline Che sono troppo belle Non le trovo mai Queste piccoline palline Le perle che ci sono dentro Insomma Questa è la question Dicevo Non comestibile Uno scemo Se lo potrebbe mangiare Non mi piace Sì Una settimana Perlare E' un'altra E' un'altra E' un'altra La sentenza Eccolo qua Ah poi voglio recensare anche quello alla pesca Però come vi ho detto non sto a casa niente Guardate come è tanto grande Niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Ve lo consiglio tantissimo E noi ci vediamo al prossimo video